Strade Maestre è un progetto educativo che prevede lo svolgimento di un anno scolastico in cammino. Si rivolge a ragazzi che formeranno una classe che, accompagnata da un gruppo di cinque docenti, che sono anche guide escursionistiche, viaggerà a piedi, zaino in spalla, attraverso tutta l'Italia, facendo scuola in viaggio, scuola in cammino. È una proposta nuova, che non ha precedenti nel mondo, e nasce dalla volontà di mettere i ragazzi delle scuole in condizione di sperimentare l'esperienza del lungo cammino. Esperienza che crea un forte spirito di comunità, una profonda conoscenza di se stessi e una diversa connessione con i territori. Il progetto è in via di definizione. La cooperativa sociale Camminamenti sta lavorando per creare un format, un numero zero, che dovrebbe partire nell'anno scolastico 2024-2025, grazie a una rete di collaborazioni sia istituzionali, sia associative, sia aziendali, che abbraccia buona parte del territorio nazionale. Crediamo, come scrive Paolo Freire, che nessuno educa nessuno. Nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo.